La polizia di Crotone ha arrestato quattro persone ritenute responsabili dell'omicidio di Giovanni Tersigni, colpito la sera del 7 settembre in piazza Crotone da diversi colpi di pistola. Si tratta di un calabrese, di un bulgaro e di due persone residenti in provincia di Catanzaro. Giunti in città in occasione dell'omicidio. Abbiamo preso ieri pomeriggio altri tre soggetti. Il mandante è uno degli autori materiali sostanzialmente e l'altro comunque un complice. L'omicidio prevede cinque persone che a vario titolo concorrono nell'omicidio di Tersigni. È un'operazione, come dicevo prima anche ad altri colleghi vostri, è un'operazione classica di polizia giudiziaria con tutte le componenti della prevenzione e della repressione, quindi all'inizio le volanti e poi la squadra mobile, con l'indefettibile squadra che la procura da un lato e il GIP che ha valutato attentamente le prove che noi abbiamo posto a disposizione del Pubblico Ministero. Oliverio è il mandante? Beh, da quella che è la ricostruzione sembrerebbe proprio di sì. Gli altri soggetti invece? A vario titolo hanno partecipato e dalla ricostruzione il berlingeri è colui il quale materialmente impugnava la pistola. Gli altri hanno i loro compiti, ognuno aveva un proprio compito e questo è dettagliato nella misura cautelare che è stata emessa. Per Oliverio è stato trovato 400 grammi di hashish che fanno il paio con il chilo e il rotto di eroina che si era trovato perché oggi nella contestazione anche Oliverio è accusato, c'è la contestazione di quel chilo che era stato sequestrato nell'immediatezza dei fatti a Todorov. Beh sì, il GIP si è soffermato molto su questo aspetto e in effetti ci sono tutti gli elementi per sostenere che ci fosse la premeditazione per questo fatto micidio. Sì, quello che abbiamo potuto ricostruire è praticamente la cronistoria di tutta questa situazione, di questo gravissimo fatto di sangue che ci ha permesso anche di poter raccogliere degli elementi nei confronti di cinque soggetti che riteniamo essere dei soggetti che hanno a vario titolo partecipato a questo grave fatto di sangue. Questi soggetti sono soggetti già conosciuti alle forze dell'ordine perché comunque hanno tutta una serie di precedenti. Immaginate che i due trasfertisti catanzaresi sono tutti e due sorvegliati speciali con obbligo di soggiorno quindi in realtà hanno anche violato delle prescrizioni nel momento in cui si sono recati nella città di Crotone. Questo dà anche la misura, lo spessore criminale di queste persone, assolutamente non curanti di quelle che sono le regole. Dopodiché anche l'Oliveri è un soggetto conosciuto con una serie di precedenti. Cusato Paolo sappiamo già qual è stato il suo ruolo che ha avuto, che è stato quello di favorire la fuga e soprattutto di cercare di disfarsi dell'arma del delitto oltre che degli indumenti utilizzati. I due trasfertisti hanno avuto un ruolo fondamentale perché Berlingi di Cosimo per noi è stato quello che materialmente esplose i colpi di arma da fuoco. Passa l'acqua ha in qualche modo preso parte alla spedizione omicidiaria, non manifestando alcun tipo di tentenamento nell'impedire che potesse verificarsi questa situazione e partecipando anche alle fasi preparatorie. Il mandante per noi è Oliverio, perché Oliverio aveva da quello che abbiamo potuto ricostruire una situazione di asto e di attrito forte evidentemente nei confronti del Tersigni che aveva portato già in passato da quello che abbiamo acquisito a voler portare avanti questo proposito omicidiario, rivolgendosi proprio allo stesso accusato, il quale però in quell'azione evidentemente aveva rifiutato, però evidentemente questo suo proposito poi ha trovato successiva concretizzazione. Grazie a tutti.